Oltre 3,5 kg di droga e una pistola è quanto rinvenuto e sequestrato dalla polizia in un'abitazione di via Giorgio Morandi a Tor Sapienza. L'attenzione dei poliziotti è stata attirata da un uomo che a bordo di uno scooter fermo in zona Alessandrino è stato visto scambiare un involucro con un'altra persona. Alla vista della polizia ha acceso il mezzo ed è partito, ne è nato un breve inseguimento terminato in via Staderini dove due pattuglie hanno raggiunto e bloccato il fuggitivo. Identificato il 36enne romano già noto alle forze dell'ordine è stato perquisito e trovato in possesso di sei tavolette di hashish nascoste nei pantaloni. La perquisizione estesa anche alla sua abitazione ha successivamente permesso ai poliziotti il ritrovamento di un notevole quantitativo di sostanza stupefacente e di una pistola. Nella sua camera da letto erano nascosti 2,3 kg di hashish e 1,3 di marijuana ed una pistola completa di caricatore. Trovato è sequestrato inoltre un foglio con varie annotazioni di nomi e cifre, reso conto dell'attività illecita e un bilancino di precisione. Sull'arma di probabile provenienza estera invece sono in corso ulteriori accertamenti da parte degli investigatori del commissariato prenestino. Grazie. Grazie.